Dal 24 febbraio, data dell'ultimo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico ad oggi, sono trascorsi 20 giorni ed in 20 giorni il silenzio del Governo regionale è risultato preoccupante ad ogni singolo lavoratore, ad ogni esodato e a tutti i cittadini, a tante imprese che vorrebbero evitare l'utilizzo dell'istituto contrattuale del licenziamento e magari richiedere la cassa integrazione. Questo è l'unico argomento che il Governo nazionale ha scaricato sulla regione siciliana e questo è l'unico tema che l'assessorato regionale al lavoro dovrebbe trattare in modo prioritario così da evitare altri licenziamenti e così da fornire una risposta concreta a quasi 100 lavoratori dell'indotto Eni, Gela e Sodati, cioè privi di ogni sostegno al reddito. E quanto ribadiscono i sindacati Cigelle e Cisle Will in una nota, siamo, dicono, all'ennesimo evento che ci costringe a dire le cose come stanno e a dirle senza tentennare. Il sindacato dei lavoratori ha il dovere di dire le cose come stanno ed ha nel contempo la responsabilità di proporre soluzioni pur sapendo di non avere poteri straordinari come ad esempio dare autorizzazioni o fornire coperture finanziarie. Il verbale della riunione al Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 24 febbraio sottolineano i sindacati, diceva due cose importanti. Essere dichiarati area di crisi complessa non consente un utilizzo diverso della legislazione riferita alla materia lavoristica. La titolarità ha la copertura dei fondi richiesti a beneficio del lavoratore dell'indotto Eni, Gela e della regione siciliana. Il sindacato confederale e le categorie del settore industria in questi 20 giorni hanno sollecitato la regione, hanno interloquito con la prefettura, hanno definito la convenzione con la banca per agevolare il pagamento della mobilità ai lavoratori, con cadenza mensile. Hanno incontrato l'Inps per mettere in liquidazione le somme maturate dei lavoratori ed hanno impegnato l'Eni all'avvio dei cantieri e da giorni sapremo anche quali e con quale numero di addetti. Mentre il sindacato fa, il governo regionale si fa attendere e la disperazione dei lavoratori e la crisi delle imprese aumenta. CGL, Cisle e Will intendono evidenziare il lassismo che sta caratterizzando l'uso dei 32 milioni di alleni riferiti alle compensazioni e questo aspetto riguarda anche il comune, titolare assieme alla regione del destino dei soldi. Ad oggi sarebbe importante un'operazione trasparenza, cioè rendere pubblico l'elenco dei progetti attuativi presentati. CGL, Cisle e Will invitano il governo regionale a mantenere gli impegni assunti fornendo immediatamente una data. I lavoratori e con il sigela rivendica fatti e atti di responsabilità.